Sì, la nostra realizzazione di media è che non ci sono due tarifiche, una di circa 16% che è più o meno uguale al BBO attuale, si lo introduzono nella frontera, e una tarifiche più alta di 18%, ovviamente se c'è la conseguenza dell'inflazione di prezzi subi, non ci sono alcuni rebagliati del belastro, ma non ci sono più informativi, sì, mi sono più preoccupato, non ci sono più, se il porcentaggio di persone che ti paga il belastro al BBO attuali qui in Aruba, è meno del 60%, quindi qualche rebaglio di tarifiche non ci sono più o meno, non ci sono più o meno, non ci sono più o meno, non ci sono più preoccupato, ma non ci sono più o meno, non ci sono più o meno, non ci sono più o meno, ma non ci sono più o meno, ma non ci sono più o meno, ma non ci sono più o meno, se si possono farlo, se si avessi bene. Il importatore paga 18% nella fronteira e poi il comprador paga 18% nel momento di comprare. Pagano di aumento di prezzi, potete pagare di 3,60 altissime di prezzi. Questo è un aumento di quasi 28%. Questo è perciò di inflazione, perciò di subito di gasolina. Questo è un slaggo più duro per le persone normali.